L'Alessandria lancia la campagna vaccinata allo stadio. L'obiettivo è quello di riavere presto gli spalti gremiti. Il club piemontese ha lanciato questa iniziativa augurandosi che tutte le società aderiscano rendendole virale. Una proposta nobile volta a sensibilizzare le persone ad aderire alla campagna vaccinale che in queste settimane sta interessando parte della cittadinanza italiana. Al tempo stesso però si sollevano dei dubbi proprio sulla legalità di tale atto. Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha proposto l'introduzione di una tessera per constatare i vaccinati presenti sul territorio, oltre che concedere delle libertà a chi si sottopone al vaccino. Ovviamente la speranza reside anche nella serietà delle multinazionali che distribuiscono i vaccini, che non devono andare incontro a ritardi, come già avvenuto. Al tempo stesso un'altra questione di cui tener conto è chi consegnare il patentino di immunità. Non tutti pur volendo possono essere vaccinati, magari perché allergici a uno degli eccipienti contenuti nei flaconcini o perché affetti da una condizione medica che ne impedisce i sottoporsi al trattamento. Come verrebbero tutelati i diritti di queste persone? Insomma c'è ancora molto da studiare e talvolta, nonostante la buona fede di tale iniziative, bisogna cercare di tenere presente lo stato di diritto in cui viviamo e soprattutto l'attuabilità di tale iniziative, soprattutto in un momento così delicato della nostra storia.